tornati dopo una decina di minuti di pausa sono nato un attimo fuori in giardino non si può uscire ok siamo ancora in zona rossa qua sono a fare due passi in giardino a vedere se per caso i girasoli stanno spuntando ma no no non sta non sta succedendo da vedo che mi avete scritto in privato vediamo ok ok back 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 allora andiamo ad analizzare subito 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 tutto quelli che si meritano alla fine il premione per più interessanti della ludonarrakon 2021 che tra l'altro si sta andando a concludere è domenica pomeriggio quando sto registrando questa live e quindi le ultime ore di ludonarrakon numero uno chicory chicory vi consiglio assolutamente di provare la demo è molto interessante ed ha alcuni dei creatori di wondersong va a interagire in modo super originale con il mondo con il pennello e il colorare le cose è molto molto bellino molto cute e ci sta mi è molto piaciuto mi aveva molto intrigato provato la demo e sì secondo me è una cosa molto carina e molto nuova uno anche per disco elisium non l'ho giocato ma ne ho sentito parlare benissimo me l'hanno mandato me l'hanno molto molto lungo so per cui è in cantiere ah ne ho saltato uno che qua non so perché non fa vedere ah sì perché è sparito a un certo punto della ludonarrakon dove esserci anche cosigrove all'inizio ma ah no eccolo no non è cosigrove quello che è sparito cosigrove mi sembra interessante molto interessante anche se sembra più per smartphone che non per computer però non sembra male altro uno se lo prende genesis noir che tra l'altro anche questo recensirò ringrazio tra l'altro sia evolvepr che fellow travelers per avermi dato la chiave per poterlo recensire sembra una cosa tipo un noir fantascientifico ma con una grafica tutta strastrana mi ha preso molto molto bene detto questo un 1 se lo becca anche Haven che è nella mia wishlist da un po' è molto interessante è già uscito non farò una recensione ma probabilmente lo comprerò prossimamente racconta di una coppia che si trova dispersa su un pianeta che ha una corruzione per cui bisogna combattere insieme per riuscire a sconfiggere questi mostri e annullare insomma la corruzione da questo pianeta uno sorprende anche pendragon che è di incol per cui per me incol si merita uno già di partenza perché 80 days è stato bellissimo l'altro loro dopo che hanno fatto mi ha sempre intrigato molto ma non ho avuto ancora modo di giocarlo quindi questo mi hanno mandato la chiave a differenza di cos'è che era? non mi ricordo che scrivassi il loro secondo titolo dopo 80 days si chiamava tipo qualcosa Heaven mi pare però comunque sembra molto interessante con combattimento strategico turni però ambientato tipo con della lore Arthuriana del ciclo di Rear 2 interessante Spiritfarer ha venduto tipo mezzo milione di copie già alle 3 o quando avevano annunciato mi aveva intrigato tantissimo ancora più intrigato non ne farò recensione ma è nella mia wishlist Svobo da 1945 non è ancora uscito ma ho giocato 1942 Attentat di loro ed è molto bello parla di eventi della prima guerra mondiale e tra poco ci vedremo la demo insieme Tickup è un 1 anche se la demo non mi ha convinto tanto per cui è un 1 che potrebbe precipitare nel 2 boh boh perché mi è sembrato molto infantile molto poco gameplay molto solo grafichine bambine ma senza molta sostanza sotto vedremo 1 per Tunic Tunic sembra davvero una sorta di Legend of Zelda per PC l'ispirazione sembra palesissima già solo guardandolo e ho provato la demo la demo non dice tanto in realtà la demo è soltanto di Zelda generico però graficamente e come sonoro convince per cui spero che poi anche il livello di gameplay e trama terranno il passo una volta che sarà uscito Venice 2089 l'ho provato ieri mi ha convinto sono contento che uno studio italiano lo stia facendo potrebbe promettere davvero bene e 1 anche per What Comes After di cui ho provato cioè l'ho giocato proprio tutto è carino l'avevo messo nel tier 1 principalmente perché è di alcuni di Tog Production che l'anno scorso c'aveva forno di Togiavi di Coffee Talk e mi era piaciuto Coffee Talk parla della morte è molto molto breve tipo un'ora e mezza due di gioco e si ne saprete di più presto quando caricherò la recensione penso prossima settimana o tra due settimane perché il materiale ce l'ho tutto do solo mettere insieme i pensieri e unirle in qualcosa di un po' più completo e con questo concludiamo il nostro la nostra disamina insomma di dei giochi presentati quest'anno alla Ludonara con e passiamo ora alla ultima demo cioè Svoboda 1945 e poi ci vedremo soltanto più su YouTube con le video recensioni di dei giochi che porterò prossimamente allora tra l'altro devo cambiare la cattura finestra schermo intero e proprietà non è più BeaconPines ma è Svoboda ok Scusate è in è normale che sia così cioè è in cieco Rat no però è è tutto in cieco io non so cosa sto scrivendo Obex Svoboda 2001 le riprese nel 1942 attentate erano molto carine e gli attori erano anche in gamba un occhio 3310 posso cliccare solo la sua cartina e no però ragazzi io non lo conosco titul chi aspetta eh no ok ok the characters and stories in this game are fictional but they are based on comunque se il cover 42 sono basati su testimonianze severe gli attori non sono quelli che hanno effettivamente esperienziato quella storia ma sono comunque riprendono dei fatti effettivamente accaduti hanno fatto un gran lavoro di analisi e interviste su quello che è successo nella seconda guerra mondiale in Repubblica cercare 21 novembre 2001 sono stato andato a Svoboda per fare un lavoro sorvegliare la scuola locale ma ho trovato un villaggio sconvolto dal suo passato 45 liberazione dal nazismo 52 collettivizzazione comunista 46 espulsione dei tedeschi di sono stati di scuola di mio fratello. Ma studiata non ha detto che ci sono 8 minuti a 45 minuti. Mi ricordo che la teta si potessi farbare i più di più di 50 kg. e che sveglie dalla terra nel paliero delle cese... Qualcuno di loro ha potuto decidere se volto a fare l'interno e se si venisse a fare l'interno Tutto intorno a questa scuola Ok Intanto avevo molto apprezzato anche nel passato Nello scorso che ci fossero tutti questi Tutto intervallato con questi fumetti molto gradevoli Mettete il novembre del 2001 Should the schoolhouse be preserved or not? I have to decide This place is haunted by the past But so am I One week before Ciao Pierpa Questo potrebbe interessarti sulla seconda guerra mondiale Non so se tu avevi giocato l'attentato 1942 C'è il 33 dieci Eeeh Una conversazione autoconclusiva Il tizio non interviene Ha detto fai questo 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 No ok ma sono delle persone che parlano di quello che c'è stato prima Hanno raccoltato delle testimonianze dalla Repubblica Ceca In questo caso in questo qua che deve ancora uscire Della liberazione successa nel 1945 Dall'occupazione nazista Mentre invece quello di attentato 1942 Parlavano di un attentato effettivamente andato a segno mi pare Eh In confronto di un gerarca nazista che era capitato là E delle conseguenze che c'erano state In pratica sono partite da fatti che hanno scavato Scoperto scavando Testimonianze Eh Di anziane persone che vivono là E hanno ricostruito con degli attori Eh Le vicende insomma Dell'epoca Allora Mi sono perso cosa diceva il tizio I don't know I have to see it first and take some photos Tanto mi piace un sacco che sono questi personaggi qua super Della Repubblica Ceca Ah beh Ma questa è praticamente Cioè Quindi la stascuola è ancora proprio così Come era Cioè immagino che questa sia una foto che hanno fatto loro Non è una ricostruzione Cioè alcune cose Magari Sì tipo questa Ok Però Ho la foto Grazie alla nostra novità Possiamo andarlo sopra O aprire Questa che però c'è scritto che è vietato le persone Il dettaglio di andare nell'attico Quindi Non so Super seducer ma con la guerra Più o meno Dai E' un'altra E' un'altra giacca, ah la prende, la toglie e c'è una valigia qua ok c'è stata la roba abbandonata in questa scuola, ah c'è una chiave forse per il coso di sotto al piano di sotto ah l'immagine l'ha presa e basta c'è altro qua, mi sa di no ah delle foto ok erano i quadretti dei politici da appendere giù sotto nelle classi eh Svoboda quindi era un generale ok ah c'è un ops mi stava dicendo le cose ma io what but that's my grandpa c'è ben trovato la foto del nonno so no Ah, devono demolire la scuola quindi? Non si, ma dovete escire? Non si, ma... E mi... ...e devo trasferire la scuola di questa scuola? Mi... Mi piace molto i personaggi che scelgono, anche nello scorso, ci sono delle persone che hanno dei visi molto molto espressivi, anche quando parlano, quando guardano... Poi vedo un po' se ci fai attenzione Sembrano effettivamente in posa E cosa pensi? Beh di sicuro pensi che non voglio Ah ok Ok quindi non abbiamo visto tutto là sopra Oh chi arriva? Chissà se le riprese stelle sono le stesse all'interno Ma non è una scuola? Ah Ok quindi possiamo spostarci e andare nelle varie zone Ah chiama mamma Oppure Anna Grossel Non so chi sia Questa ne ha anche Old school building Ma chiamare mia mamma per dire che abbiamo trovato la foto del nonno Ok ok You're right Pierpa Ahoj Scelto delle altre cose invece Eh ok Testimonie archivi Basate su testimonie archivi Testimonianze archivi Se magari non so non chiamavo la mamma Cioè ne sapevamo qualcosa di più Cioè prima beacon pince Thers beacon pince Was so so long And now This ended abruptly Let's try again Ok 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 I would like to skip all that Cause we already seen We've already seen that Ok And this Starts the flashback I'm curious about Who's the man On the road here Is here a man or a woman Or a woman Woman Ok Ok Let's skip this Ehhh Ok We've already seen that Ok It's locked This is the photo of before Let's go Upstairs Let's Click on that His roof is originally Nobody changed the thing Rumor has That a German hanging suffer When he face the explosion Oh dear Ehhh Ok Let's take the key Maybe this will open Open the No I cannot go downstairs anymore Ok So he's scripted Cause we have to To take this Thing With the photo Ok And this is the The photo of our grandpa Our grandfather Our grandfather So Is Anacapri the dream? Anacapri Anacapri What's Anacapri? Anacapri Anacapri Let's change a little bit Froze made a video Ah ok I'm not following it so much This one? I don't know Ask Mrs. Studnička I want to talk to you I want to talk to you About the demolition Ok Twin eyes Capri and Anacapri Twin eyes Ah ok Ehhh Ehhh You don't know It's going to be bad Ok This dialogue We already Have seen it Ehhh Oh This is complex Ok No I didn't No I didn't I didn't I didn't know about These two islands Oh Now we have Unlocked these Men That we had Not before And this farm What if we go here Teacher who wants to save the school Village Chronicle An Amateur Historian Hello there Here from the Scoric Preservation So this is our school What do you think? What do you think? The mayor Major Want to say To Playpal He's with Zloka's Businessman And he's Going to have it Torn down Ok I cannot read all of this Ah ok One Island But to Towns To villages To villages Ehh That would be a long experience But if you're interested I have a lot of material Here I'm actually a place Historian Amateur It always fascinated me How many pieces questo tipo di spesa ok so we can see a little bit more of dialogues but not so much but the thing i liked about municipalities ok but the thing i liked more about the demo is that we have a lot of things that unlocks are unlocked by changing only the dialogues the first time we only talked about that and not talked about our grandfather and we had not the options to go to the farmer or to the farm in the game before they had something like that because you can choose to change dialogues and you can have locked or unlocked locations on the map based on the dialogues sometimes, well, most of the times you can access everything just later or before based on the dialogue choices you have made before but it's interesting because the gameplay changes a lot if you change dialogue options while you're playing I think it's all we have because I don't think it's interesting to re-see all the starting point another time to only see one or two dialogues more in the choice after the talk with the we will see this game hopefully when it will be released I already talked with the guys that are developing it and they were pretty happy about me showing the game demo today so I hope I'll hear about them in the future and oh look at that images from the archives well thank you for joining us and have a nice day goodbye ciao pierpa ciao pierpa ciao pierpa ciao pierpa